La mobilitazione di oggi l'abbiamo definita il giorno della verità per la questione delle biblioteche ma in generale per tutte le criticità che sono state sollevate in questi mesi, queste settimane dai vari movimenti all'interno dell'Ateneo di Pisa. Il problema fondamentale è che non è stato realizzato l'assestamento di bilancio, è il secondo anno che non si realizza un assestamento di bilancio, per noi appunto si tratta di un grave illecito amministrativo. Per quanto riguarda le biblioteche in particolare, noi abbiamo sempre chiesto e insieme a noi centinaia e centinaia di lavoratori, di docenti e di studenti di questa università il rientro del taglio di 280 mila euro, taglio eseguito dall'amministrazione centrale. L'assestamento non c'è, il taglio non rientrerà e quindi noi oggi abbiamo presentato una proposta di delibera per stornare delle risorse da una voce a un'altra, cioè quelle delle biblioteche del bilancio e quindi recuperare tramite questa iniziativa, se vogliamo, dal basso questi tagli che per noi significano indebolire drammaticamente la nostra università. E oggi chiediamo all'Ateneo, nei fatti attraverso il consiglio di amministrazione, di sostenere le biblioteche. Ci sono stati diversi pareri autorevoli all'interno di questa università, sia della Commissione Quinta sulle biblioteche, sia del delegato del rettore del comitato di indirizzo e controllo del sistema bibliotecario, sia da parte dell'assemblea sindacale che ha avuto luogo alcuni mesi fa degli strutturati delle biblioteche, che sia da un punto dell'assemblea nostra per la salvaguardia delle biblioteche che è composta da dipendenti esternalizzati, strutturati, studenti e precari della ricerca e della didattica. E anche il Senato accademico l'altra volta ha visto una discussione incentrata sulle biblioteche dove tutti i docenti si sono sgolati per dire che sono a difesa delle biblioteche. Qui oggi si tratta di dimostrare nei fatti, cioè l'Ateneo deve far rientrare quel taglio che appunto è derivato dall'amministrazione centrale e che va a ricadere sul 33% del funzionamento di ogni struttura bibliotecaria. Si deve calcolare che oltre a questo 33% che arriva dall'Ateneo si sommano i tagli delle facoltà e dei dipartimenti, la situazione è al collasso. Si sta incominciando a far sì che ci sia una cessazione degli acquisti sugli abbonamenti delle riviste, si comprerà sempre meno libri, sempre meno monografie, si sta arrivando a tagliare i servizi essenziali come il prestito interbibliotecario, ci sono problemi nella gestione e nel mantenimento delle strutture. Il problema principale è che se oggi perlomeno questi soldi non vengono recuperati e che l'Ateneo non dà un segnale di inversione di tendenza, da settembre la situazione è più che tragica. In più c'è da contare il fatto che l'Ateneo in qualche modo si è avvantaggiato su questi tagli rispetto ai tagli che arriveranno dal Ministero soltanto dal prossimo anno. Quindi ci aspettiamo dal prossimo anno una situazione ancora più grave se quest'anno non arriva un segnale di inversione di tendenza.